Argiola è sicuramente un'azienda di famiglia, rappresenta principalmente una famiglia. Noi facciamo parte ormai della terza generazione e oggi abbiamo portato un nuovo vino, il Senes. Il Senes, che è nato da un progetto portato avanti dalla famiglia, sono stati oggetto di studio tutti i centenari e Antonio Argiola si è stato uno di questi centenari e dagli studi è venuto fuori che un corretto stile di vita e il bere un bicchiere di vino a pasto sicuramente influenza positivamente la longevità. L'etichetta rappresenta proprio il genoma umano e riprende il discorso della longevità e della lunga vita. Assieme a questo vino abbiamo voluto presentare anche un libro, Senes sempre, dove sono stati fotografati dieci centenari in tutta la Sardegna, è stata raccontata la loro vita e il loro modo di vivere in Sardegna e assieme a questo libro è stato presentato proprio il nuovo vino Senes 2012. Il Porto Acervo Wine Festival è sempre una bellissima vetrina per i prodotti della Sardegna. Rappresenta un momento molto particolare perché forse è da inizio alla stagione e dunque sicuramente sarà una bellissima stagione. Rappresenta un momento molto particolare Rappresenta un momento molto particolare